Om, salve sono Singh Lakhir, proprietario della Curcuma India, qui troverete tutte le informazioni sui prodotti naturali, biologici e della tradizione indiana ayurvedica, qui significa scienza della vita, per qualsiasi informazione potete contattarmi via email, via telefono, vi risponderò con piacere, buona visione a tutti, buona vita a tutti, Om